Mister Memmo, il suo Fossacesia, se non vince pareggia, ma oggi una bellissima vittoria. Noi adesso dobbiamo guardare al suolo a fare i risultati e oggi è veramente una vittoria importantissima contro una signora squadra, tre punti fondamentali per noi. Esatto, uno spoltore che comunque costruisce e gioca molto bene. Che cosa pensa sia dello spoltore che delle squadre che avete incontrato e che incontrerete in questa nuova categoria? Va bene, lo spoltore è una squadra di esperienze, giocatori esperti e giovani interessanti. Ha fatto veramente una buona gara, noi siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla su pallina attiva perché di solito le partite quando sono bloccate le decidono sempre le palline attive. Noi siamo stati bravi in quello e il campionato è tosto, il campionato noi dobbiamo giocare sempre così, dobbiamo stare sempre sul pezzo e quindi ogni domenica è una battaglia calcistica naturalmente e noi dobbiamo preparare ogni gara nel migliore dei modi. Mister Di Camillo dello spoltore, oggi la sua squadra sicuramente nel primo tempo ha costruito tanto, poi nel secondo tempo probabilmente siete scesi un po' fisicamente, che cosa è accaduto secondo lei? Ma no, non credo che siamo scesi fisicamente, anzi, nel primo tempo fondamentalmente è stata una partita equilibrata dove loro l'hanno sbloccata su una palla inattiva, su un tiro cross, non era nemmeno proprio un tiro in porta. Ai miei non devo rimproverare nulla perché prima del gol comunque noi con Selva Lega, durante la porta ci siamo divorati, un gol praticamente fatto su una bella azione. Poi al secondo tempo ovviamente loro più che altro, soprattutto nella parte finale, hanno pensato a difendere il risultato come è giusto che sia perché per loro sono tre punti fondamentali. Noi dobbiamo un attimo capire che in questo campionato a volte bisogna anche cacciare fuori la cattiveria che ci manca un po' però va bene, è lungo il cammino e ci faremo trovare pronti domenica prossima. A Coderfossacea invece di questa squadra neopromossa che cosa fai? Una squadra ben allenata dal mister che lo conosco, una squadra che mi ha impressionato in positivo anche perché avevo detto in settimana ai ragazzi, una neopromossa che in tre giornate comunque fa una vittoria e due pareggi vuol dire che hanno qualcosa di buono, un'organizzazione, infatti è stato così, soprattutto i quattro davanti sono quattro bravi che non danno punto di riferimento e anche dietro in mezzo al campo. Una squadra che sicuramente arriverà fino alla fine per salvarsi e auguro loro di raggiungere l'obiettivo.